Uncharted 4 Non ho capito se è una beta o se sarà come Uncharted 3 free to play su play 3 Che ti dono gratis, provi il multiplayer di Uncharted Però se vuoi delle cose in più devi pagare a parte, anche la storia E tanto vale che ti prendi il gioco completo Comunque questo forse dovrebbe essere una beta perché dura dal 4 al 7 di marzo Quindi avviamo e vediamo cosa ci propone il gioco Ho visto un trailer, mi è sembrato un po' più particolare rispetto agli altri Uncharted multiplayer Vediamo un po' se la connessione ci permette di andare avanti Magari si Ok, perfetto Oh mio dio, quanto tempo è passato Che anno siamo? Non ho capito Allora, schiva gli attacchi corpo a corpo effettuando una capriola Ok Beh, graficamente È migliorato Ma dai Traccogli le gemme Quale gemme? Queste? Oh Ah I radar I nemici diventano visibili sul radar mentre sparano Tranne quando utilizzano armi silenziate Ah, ok, ok No E ma tanto sono immortale a questo punto Non vedo neanche lo schermo che si escurisce Senti, tu mi hai rotto abbastanza le palle Vieni qua Oh Adesso devo trovare gli altri nemici E però questo qua è soltanto la parte Tutorial Quindi non so se Riuscirò a fare almeno la parte vera e propria del multiplayer Spero di sì Perché cavolo, l'ho preso apposta Però è figo Le mappe Rispetto A quella da perfetto E mi sembrano più grandi Ah, penso di aver fatto la figura del cavolo E precarica pure Tu mi sei abbastanza famiglia Negozio Ah No, che figo Fa pure il rallentatore Dai, che figo Mi sono preso un soldatino E la madonna No, che figo Dai Oh, mi ho alleato Venite qua, strozzi Non siete qua Ah, ok Adesso si sta scurendo Adesso si sta scurendo Udè che era C'è Udè che c'è La Una barra Sotto specie di barra vita Posso Ammazzarla a mani nude Sì Se No, ferme Addio Bello E stavolta qua la mappa Non è come Nella versione Anche per PS vita Che Intorno Vedevi uno sfondo Dove c'era il paesaggio Però era Non in 3D Raggiungi sul radar Mettiti al riparo Con un cerchio Ma no Sono un Un eroe Cazzo Non posso Rimettimi al riparo Così Sono un po' Raffreddato Ah di qua Ma proprio qui 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 Ok Ok Accendiamo il negozio Stavolta Lanciare L'ira Del Di Eldorado Perché è proprio lì Ho capito Bello Qual è il tuo livello di esperienza Con gli sparatutto Multigiocatore Intermedio Intermedio Sfide Allora Metti capò 10 nemici Con qualunque arma Rianima 5 compagni di squadra Vinci 3 partite Questi punti lanciata Sono offerti dalla casa Puoi spendere Nel negozio Per sbloccare Oggetti estetici O altri articoli Adesso iniziamo Col gioco Avere proprio Tetto Lanciasquadra L'ultima cosa che c'è Ah Un certo TV Mi mancava No me ne farei un cazzo Ok Adesso bisogna aspettare Altri giocatori Sbloccare 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 Ah Siamo tutti Ok Devo Prendermi Connessione Cosa c'è Ok Partiamo Che succede Che succede Oh che bello Ok Troviamone un'altra Evidentemente Sai Chi è che Comanda Qui Mi ricordo Di te Corri Corri Ah così Eh ma No dai Ma dalla connessione Ti prego Almeno oggi Connessione Ti prego Almeno oggi Pa 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 Fa Fagulo Eh 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 Oh già faccio È troppo alto Non ce la faccio Eh 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 Ma perché 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 Lanter Perché Devi fare questo Ti prego Perché Purtroppo Io Il multiplayer Lo sto provando L'ho già Ma non Si connette E ho notato Che Non puoi Andare A esplorare Così A caso La mappa Però Mi sembra Abbastanza grande Guarda Come li ammazza È una roccia Grande Gino Grande Gino Grande Gino Sei tutti noi Ah Ce n'era uno lì Bravo Gino Bravo Gino Sì Salti per Gino Vai Gino Dov'è vai Gino 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 che cazzo fai Non puoi cagare dall'alto Gino Che fai Sei indeciso Fai come i gatti Che si arrampicano Fino in cima Un albero E poi quando Deve uno scendere Tornano paura Gino Aspetta E se io faccio così Ah Aspettava A me E dillo Gino 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 sali Testa di micia Sali Gino Vabbè Gino Ti lascio lì Gino ti muovi Sei lento Come non so cosa Come un muo Un bue Un buo Gino Scendi giù Due minuti restanti Ah c'era anche un timer Vabbè Gino Ti lascio lì Guarda Me ne frega niente Puoi anche rimanerci lì Comunque Per il momento Termino questa parte Di gameplay Ci vediamo Nella seconda parte Sì farò Due parti E meglio Dove tenterò Almeno di giocare In multiplayer E noi ci vediamo In un prossimo video Ci vediamo